L'anno scolastico in corso sta per terminare e si è già proiettati al prossimo. La giunta regionale della campagna su proposta dell'assessore all'istruzione Lucia Fortini ha infatti approvato il calendario scolastico 2019-2020. Le lezioni per tutti gli ordini e gradi di istruzione per i percorsi formativi avranno inizio mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020. Per un totale previsto di 204 giorni di lezione, 203 giorni di lezione nel caso in cui la festività del Santo Patrono ricada nel periodo di attività didattica. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative termineranno martedì 30 giugno 2020. Sono previste sospensioni varie, 2 novembre commemorazione dei defunti dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020 per le vacanze natalizie, 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di carnevale, dal 9 aprile al 14 aprile 2020 per le vacanze pasquali, ponte poi del 1 maggio, festa anche il 2 maggio. 1 giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. Sono confermate le celebrazioni del 27 gennaio, giorno della memoria, 10 febbraio, giorno del ricordo, 19 marzo, festa della legalità. Grazie.